Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi Tessilan vi porterà fin su in paradiso, ma tranquilli, atterreremo su una nuvola soffice e colorata. Si tratta dell'Eden, andiamola a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro Eden, un gomitolo da 50 grammi ma che come potete vedere è molto voluminoso, per una lunghezza di 125 metri all'incirca. È composto all'80% da merino extra fine superwash e al 20% da nylon. Vi consigliamo di utilizzare i ferri dal 5 al 7 e l'uncinetto che vanno dal 4 al 6. Per quanto riguarda il lavaggio, vi ricordiamo che questo filato è un merino extra fine superwash, il che lo fa rientrare in uno di quei pochi filati che sono lavabili in lavatrice. Ovviamente vi ricordiamo di utilizzare un programma adatto alla lana e ai delicati, l'utilizzo di poco sapone e che sia senz'altro neutro, per detergere così senza aggredire le fibre del prodotto. Vi raccomandiamo di adoperare detergenti doni, ovvero tutti i solventi, eccezione fatta per il tetragloretilene, e di non utilizzare l'ammorbidente. Per quanto riguarda l'asciugatura, invece, è possibile procedere soltanto dopo aver eliminato l'acqua in eccesso dalle fibre. Vi consigliamo, infatti, di non utilizzare l'asciugatrice. Per quanto riguarda, invece, l'ossilaggio, è possibile effettuarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Andiamo ora a vedere tutti i colori di questo filato. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione allegra, un mix di colori davvero particolari, che vanno dal giallino fino ad arrivare al rosa, al lilla, ma anche il fucsia e il verdino. Colorazione monella, un mix di colori davvero allegro. Partiamo dal giallo per arrivare fino all'arancio, al rosso e al bordeaux, passando per il verde, il lilla e il blu acceso. Questa è la colorazione romantica, il nome ce lo descrive già. Partiamo dai colori teni del bianco fino ad arrivare al rosa, al lilla e al glicine. Con un pizzico di verde. Simpatica. Qui le colorazioni pastello si mischiano a colorazioni più accese, come quella del giallo, dell'arancio e del turchese. Questo è il colore libera. Le sue tonalità ci fanno pensare subito al mare. Infatti passiamo da un azzurro fino ad arrivare al blu più acceso, arrivando fino alle varie sfumature del verde che si mescolano al giallo e al lilla. Elegante. Qui si mescolano colorazioni più accese, che vanno dall'azzurro al blu al rosso fino ad arrivare al bordeaux, passando per dei colori più tenui come il beige e l'antracite. Questo è l'haven, un filato morbido e soffice come una nuvola, ma che ha tutti i colori dell'arcobaleno. Infatti, come avete visto, un gomitolo da soli 50 grammi, ma che risulta molto voluminoso. Questa sua particolare caratteristica lo rende adatto alla realizzazione di capi voluminosi, ma che rimangono leggerissimi. Infatti, questi capi tendono ad essere caldi, comodi, avvolgenti, ma per nulla pesanti. Vi ricordiamo che questo filato è realizzato in Italia con una lana mirino extra fine, ovviamente il mio sling free. In particolare, questo prodotto ha il trattamento super wash, il che lo annovera in uno dei pochi filati che può essere lavato in lavatrice. Quindi, super comfort e praticità. Dopo questa soffice carrellata di colori, non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di cliccare mi piace a questo video, iscrivervi al canale e di seguirci su tutti i nostri social Instagram, Facebook, la pagina Meglio di Maglia, il nostro blog e TikTok. Al prossimo Tessila News!